questa collana la riconoscete perché c'è la costa dorata questa collana della mondadori abbastanza pregevole niente niente di cui stracciarsi le best monografia successo questa è su cesano dice una risvolta basta guardare gli autori tratti di cesano per capire al volo il carattere di questa provincia duro testardo determinato cesano assomiglia la sua montagna di san vittorio ostinatamente uguale a se stessa immobile davanti al cambiare dei tempi e delle stagioni nella sua inscalfibile coerenza cesano ha litigato con tutti amici letterati pittori si è chiuso dentro uno stretto e sobra il circuito di luoghi familiari ai sigari ostentati dagli impressionisti preferisce la pazienza della pipa ai balli lungo la senna una partita a carte nel bar del paese in questa rocciosa solitudine fuori moda cesano è certamente il più grande consapevole pittore della sua generazione ha capito tutto la luce il colore la forma il disegno la prospettiva e la libertà accolto al volo il limite dell'impressionismo la parabola discendente di un movimento che si stava trappando